Veloci so! Attento i regali, si so! Quanto è bello? Continuiamo, alunno e il bambino? Presente signora maestra Alunno e Simona Presente signora maestra Alunno e Eugenio Alunno e Eugenio Eugenio è presente Ma signora maestra ma se è Eugenio ma che ci viene a fare a scuola? Facciamo un gioco! Facciamo un gioco! Ehi! Facciamo un gioco! E ora vediamo un altro doppio di grazia delle vacanze sugli animali tu, Albertino Si! Si, si non ha dubbio Si, si si Non si vede? Ottimo, eh? Ecco qua Topolino si fa le Topolino del Felicismo Pippo! Perché è triste? Adesso la seconda! 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 Continuiamo! Alunno e Martina che cos'è il sole? Il sole è una palla che gira Bene! Alunno e Simona che cos'è la terra? Alunno È una palla che gira Va bene! Ancora tu Simona Cos'è la terra? Cos'è la terra? È una palla che gira Va bene! In conclusione caro Albertino possiamo dire che l'universo è Un giramento dei pali! Un giramento dei pali! Un giramento dei pali! Un giramento dei pali! Ora! Questa la questione in italiano! Dovete farvi una fase con l'avverbio Probabilmente Simona Allora Signora maestra L'altro giorno sono andata in spiaggia con il cappello Sì? Se ci sarebbe stato il vento Sì! 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 Se ci fosse stato il vento Probabilmente sarei dopo la copia! Va bene! All'ultimo pescino Io maestra Frase con l'avverbio Prova al difetto Sì! 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 L'avverbio probabilmente Beh! Siccome l'inglese e il mio nonno non lo sa Probabilmente è andato a cagà Sì! No! 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 Ma non ci sono leone a Fortaventura! E' una funzione! Hai un robertino di alzimpieni. Eccolo. Quanto fa due più due? Due più due fa tre! Dai, you never chance! Dai, you never chance! Quanto fa due più due? Cinque! Dai, you never chance! Se rispondi giusto, se no... Quanto fa due più due? Quanto fa due più due? Quanto lo ti diamo? Dai, you never chance! Dai, you never chance! All'unno argentino, continuiamo con lei, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Dove si lava la foca? No, la foca! Si lava nel... Sì, andiamo avanti! Sì, andiamo avanti! Ma non si chiama do te! Per quello non si chiama nemmeno foca! Non lo so, andiamo avanti! Non lo so, andiamo avanti! Basta, non ce la faccio più con voi! Siete una classe dei disciplinati! Qui non c'è più religione! Allunga! Siete una prima! Capito! Non ce la faccio più religione! Guarda! 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 Guarda!